Facciatele Devevo farlo Salve a tutti e bentornati con questo quinto vlog dei B-Bros Ciao Ci siamo a questo quinto vlog che si chiama... Oddio, come si chiama? Pensiamo, pensiamo Se lo facciamo trovo questa cosa... Dai Si scarica a battere Ehm, benvenuti a questo nuovo quinto vlog che si chiama... Poi vedete il titolo Ottimo! Ma io hanno... Improvvisa, improvvisa Pronta? Mentre lui parla al telefono Dero... Quello... Di cui si parlerà in questo video Come state passando le vacanze? Bene Siete partiti? Non siete partiti? Volete rimanere a Roma? Noi abbiamo fatto tutto Io sono stato a Roma E sono anche partito in Calabria Un topolino morto Non so che cosa dire ho detto un po' Una cosa Poi volevamo introdurvi un'altra cosa Allora Noi... Ho già precedentemente cenato Come mi esprimo forbitamente Noi siamo stati un mese in Calabria Io un mese in Calabria Lui ho tornato un po' prima E anche lì abbiamo ricevuto la nostra umiliazione personale quotidiana L'ennesima da un bimbo Di 9 anni Quasi il doppio della fetta No, devo fare la fina da una seconda di 18 Attenzione ragazzo Non si arrendi Mamma mia Oh Superman win me Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni ho? 17 non lo so fare Perchè noi siamo... Noi teoricamente siamo ballerini Quindi... Queste cose non avremmo so per fare Ecco Però Sormoniamo insomma Dunque abbiamo parecchi progetti Dunque Abbiamo parecchi dunque in progetti Quali progetti? Quali progetti? Adesso... Aspetta facciamo una scarletta tipo a video Ding Giusto E lì poi parte Allora Lì Allora Questo è Reale e Sorreale 2 Perchè diciamo che il primo ci è piaciuto Ci siamo divertiti E quindi Ne abbiamo fatto un secondo Perchè ci sono venute in mente Anche altre idee Visto che vogliamo fare un secondo Di tutte le cose che abbiamo fatto Ecco Poi abbiamo in mente quest'altro video Che... Ti faremo... E allora la signora con Moscardelli Poi abbiamo Abbiamo... Ovviamente Di fare un... In stile Claudio di... Di faggio Un... Un bello dezzia Un bello dezzia Dove... Dove... Cocciui tu nel remo Con... Sia Graziella Graziella Se stai a vedere il suo video Preparate E... Mo scappa Cambia casa E quest'altra cosa Che praticamente... E poi Infine Abbiamo iniziato già a scriverlo Un... Un altro porto In stile La Fretta Però impiegherà molto 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 tempo Ah questo dove? Dove lo mettiamo? Questo Ecco Io direi Di dire Un grazie a tutti Perché suppongo Che quando questo video uscirà Avremo superato le 8000 visualizzazioni del canale Del canale Mi ricoglio di una cosa del genere Perché... Insomma... Sai ci stanno... Noti youtube... No... Noti... Tutti... Tutti... Dopo... Dopo un anno... Che cosa fanno la festa? Mi serve di fuoco per un figlio Ma io... Me ne frego Scusi di quei puppies... Delle figurine Ci stanno gli youtuber Tutti gli altri Che dopo un anno di... Di youtubeaggio Fanno di quel video Un anno sul tubo Grazie Degli auguri Tanti auguri a me E ci hanno tipo 100... Di più di 100... 10.000 iscritti Noi? Noi quanti? 40! Scusate Però... Però è un traguardo È un traguardo Siamo quasi alla mezza piotta insomma quindi Ah quindi Siamo giunti alla fine di questo... Sbrog Volevamo... S'allustrare tutti quelli che... Che ancora ci followano E... Quelli che dopo queste... Queste parole argute Non ci followeranno più Quelli che non ci hanno mai followerato Quindi... Buongiorno Buon mattina Buon periggio Buonasera Buon pranzo Buona cena Buona colazione Buon maus Buon maus Buon maus Buon maus Figo eh? Gli ultimi due secondi Esattori